L'azienda ospedaliera Marche Nord ha registrato sette parti tra il 31 dicembre e il primo gennaio. 1178 invece sono i bimbi nati nel corso del 2020. È stato un anno complesso per tutti, ha spiegato il direttore dell'unità operativa complessa, ostetricia a ginecologia di Marche Nord, Claudio Cicoli. Il totale dei nuovi arrivati è diminuito di circa 60 bambini, un calo in linea con il trend nazionale che vede sempre meno nati. Inoltre il reparto ha seguito anche le gravidanze Covid con 22 bimbi provenienti da tutta la regione. Nonostante noi ci siamo abbastanza difesi nel reparto di ostetricia e ginecologia, ci ha un po' segnato, ci ha complicato un po' la vita. Questo virus ci ha praticamente fatto spostare il reparto tre volte, una volta a Sufano, poi ci siamo trasferiti su Pesaro, siamo ritornati a Sufano e questo ha un po' destabilizzato l'utenza e ha un po' destabilizzato anche l'organizzazione. Però oggi possiamo dire che abbiamo chiuso l'anno grazie all'operato dei medici, degli infermieri, delle OS e grazie anche all'apporto che ci ha dato la direzione generale che ci ha sempre supportato, tanto che noi durante i mesi di giugno, luglio e agosto lasciavamo le donne sole a partorire, non facevamo entrare i mariti se non nel momento del parto perché volevamo tenere le pazienti in sicurezza. La direzione, grazie alle nostre richieste, ci ha accontentato e ha dato la possibilità di fare i tamponi anche ai mariti per cui si è arrivati alla normalizzazione e la coppia praticamente ha potuto vivere questo momento importante. Ciccoli poi, illustrandoci i dati delle nascite, ha fatto una riflessione basata non solo sui problemi di coppia ma anche su quelli di tipo economico. Sempre più giovani sono senza lavoro e la questione, ha detto il dottore, va affrontata a monte. In altre direzioni le famiglie dovrebbero avere più supporti dalle istituzioni, dai comuni alle regioni e allo Stato. L'Italia è l'ultimo paese come indice di natalità e questo praticamente ci deve far pensare perché forse anche i politici non fanno il loro dovere verso le famiglie. Il direttore infine ha evidenziato la qualità del servizio offerto ai pazienti e grazie al lavoro dei professionisti svolto in un'unica struttura. L'aver fatto un punto nascita unico ha messo gli operatori nelle condizioni migliori per operare e ha fatto sì che gli utenti ricevessero praticamente il massimo dell'assistenza. Noi non vogliamo fare previsioni per il futuro, un messaggio che voglio mandare praticamente alla popolazione che non è importante dove si nasce ma è importante che nel punto dove si nasce ci sia una qualità assistenziale eccellente.